Sette al via, cali già nei raccordi che portano al punto di partenza. Primo segnale subito valido con lotta per il comando tra Zeus World e Zapiro Lasol. Zapiro che si accoda a Zeus World quando siamo adesso sulla piegata. Più indietro ovviamente i penalizzati comandati dal numero 7 Zadif che è al sediolo di Zairon Spritz. Si va così adesso di fronte con i primi due che mantengono comunque un buon vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Il 400 dal palo a metà della ditta opposta in 33 sempre per la posizione di leader da parte di Zeus World che conduce su Zapiro Lasol. Poi ancora Zadif, quindi Zairon Spritz, poi ancora Zizi Top e Zuma Blessed. Così al completamento della piegata con posizioni che per ora non mutano. Ancora netto il divario tra i primi due e il resto della compagnia. Un minuto e quattro decimi, il passaggio agli 800 metri. Ora Zadif cerca di riportarsi sulla coppia di testa. Zuma Blessed che ha preso la schiena di Zizi Top. Così quando si va ad affrontare la piegata di destra ancora Zeus World al comando. Ora però il gruppo si è praticamente ricongiunto. E si prosegue con una lunga fila indiana quando mancano 800 al traguardo. Sempre al comando il numero due Zeus World con Zapiro Lasol in schiena. Muove Zizi Top. Si volta Antonio Greppi e cerca di anticipare l'avversario. Quando siamo ai 500 conclusivi. Anche Zuma Blessed ha preso la via del largo. Ora ci sono tre pariglie con Zeus World al comando. Con a fianco Zapiro Lasol. Quindi Zizi Top e Zuma Blessed all'imbocco della retta d'arrivo. Con Zizi Top che segue sempre Zapiro Lasol che attacca Zeus World. Zapiro che tende a passare. Zizi Top che lì per linea interna. Più a lato anche Zuma Blessed scatta Zizi Top nel finale. Zizi Top che sopravvanza gli avversari. Con Zuma Blessed che lo insegue. Zizi Top che viene a concludere davanti a Zuma Blessed e Zeus World. 2.32 e mezzo per Zizi Top Mario Manzone che ha corso all'estrema attesa salvo poi scattare negli ultimi 300 metri di corsa. a portarsi sui due di testa e riuscire a sopravvanzarli. 1.17 e un filo scarsi. La media al chilometro per Zizi Top. Mario Manzone alla guida al training. Colori la scuderia Camelot. Il secondo posto per Zuma Blessed. Il terzo per Zeus World. 4.5.2. L'ordine di arrivo. L'ordine di arrivo.